Una prima fuga e una bella soddisfazione in questa maglia. Sì, sicuramente. Correre in questa gara e oggi avevo l'obiettivo di prendere una maglia e essere riuscito a raggiungerla è stata una bella esperienza. Tra l'altro sei stato con gli ultimissimi a mollare dalla stagione. Sì, non volevo arrendermi. Ho provato fino alla fine e va bene così. Ora proverai a difendere il più possibile in maglia. Sì, sicuramente. Non voglio lasciarla. L'obiettivo sarà ancora andare all'attacco o cercherai di stare un po' più coperto adesso? Io mi piace correre all'attacco, quindi nei prossimi giorni proverò ancora. Magari nei prossimi giorni proverò a difendere la maglia. Anche un bel esempio per il tuo fratello? Sì, sicuramente. Speriamo di trovarsi magari all'attacco insieme nei prossimi giorni. E con queste prestazioni volete anche dare una dimostrazione, una risposta a chi non ha credito la vostra storia? Sì, mi sembra nelle ultime gare di averlo dimostrato e continueremo a farlo. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao.